per finirlo è bello panorama sulla strada per castel chiodato montegennaro ecco i passaggi sulla sala per castel chiodato angelo giuseppe ecco marco gabriele ciao ciao ecco pino vai americo ma che t'importa a destra paolo cucco gabriele chi manca marco ecco marco vai marco io l'ho fatta anche stavolta vai gabriele ciao siamo fermati per la sosta bar da marco eh giurma che arriva ciao vai vai giornata stupenda ciao 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 Grazie a tutti.